Questa è la copertina dell'album numero 2, è stata dipinta su stoffa e ci ho messo più di tre ore, ma ho intenzione di farvi vedere come ho fatto, ad una velocità velocissima velocissima. Lo racchiuderò in circa tre minuti e quindi temo di non riuscire a descrivervi cosa ho fatto e come l'ho fatto. Io lo so che chiunque si annoierebbe a guardare qualcuno che dipinge per tre ore, dopo due minuti non ne puoi più. Ed è per questo che ho sintetizzato, diciamo ridotto fino all'osso, la riproduzione di video. Spero che possiate gradire. A proposito, se vi interessa avere questo disegno, sappiate che lo trovate all'interno dell'album numero 2, oltre che sulla copertina. A proposito, se vi interessa, ci sono un'album numero 2, oltre che la copertina. A proposito, se vi interessa, ci sono un'album numero 2, oltre che la copertina. A proposito, se vi interessa, ci sono un'album numero 2, oltre che la copertina. A proposito, se vi interessa, ci sono un'album numero 2, oltre che la copertina. Grazie per la visione e ogni tanto ricordatevi di passare da queste parti, potrebbe esserci qualcosa che vi interessa. Grazie. Grazie.